Si è appena conclusa la prima prova della maturità, com'è andata? Penso bene, però non posso ancora saperlo. Io spero di aver fatto tutto bene. Cosa hai fatto, che traccia hai fatto e come valuti un po' le tracce che sono uscite? Allora io ho fatto la tipologia B, il saggio breve, quello sulle masse e propaganda. E comunque erano tutte tracce abbastanza fattibili, tranne forse la prima che è uscito un autore un po' sconosciuto che era Bassani. Ti aspettavate una cosa del genere? Si era parlato in classe di proposte del genere? Noi ci aspettavamo più magari un Montale, un Ungaretti, non un poeta un po' più, diciamo, tra virgolette minore. E domani la seconda prova? Quello è un po' un problema, infatti mi sa che ora si va a studiare per la seconda prova perché bisogna sapere un po' tutti i teoremi e tutte queste cose qua e è meglio ripassarli. Buono studio allora. Grazie mille. Come è andata la prima prova? Tutto sommato bene, ho fatto la tipologia B di ambito tecnico scientifico e penso sia andata tutto bene. Cosa pensi delle altre tracce uscite? Ma erano tutte abbastanza fattibili, però è uscito un argomento in cui ero più preparato degli altri, quindi ho scelto quello. Domani la seconda prova? Sei preparato? Ma si spera di sì, è sempre un po' un'incognita la seconda prova, però ci proviamo. Oggi si studia? Eh sì. Eh, spero bene. Ho finito prima degli altri, però non erano tracce tanto difficili, erano tracce fattibili. E li aspettavate? Eh, no. No. Decisamente no. I nostri prof sì, ma noi no. Tra le tracce scelte, più o meno nella tua classe, quali sono state le maggiori? Eh, traccia di tipologia B, tecnico scientifico sulla bioetica, e la tipologia A, Bassani, è un testo riguardo a... le leggi razziali del 38. Domani la seconda prova? Eh. Paura? Abbastanza, un po' di ansia. Spero bene, non sono mai stato bravo nella produzione scritta. Cosa hai scelto? La tipologia B, il tema di socio-economico sulla creatività. Che giudizio dai alle tracce che sono uscite? Ma non male, la tipologia A ovviamente era con un autore che non abbiamo studiato, e... a parte l'ultima che mi chiedeva una riflessione sulla Costituzione italiana per i tempi che corrono, le altre erano accettabili, secondo me. Domani la seconda prova, come... cosa ti aspetti? L'inglese va abbastanza bene, dipende tutto dalla prova. Sono uscite anche le date per l'orale, come è andata? Siamo gli ultimi degli ultimi, rispetto all'altra classe del linguistico, loro iniziano il 2 e noi finiti loro, è uscita la S, quindi sono il secondo del... primo del secondo giorno. Sì